Musica Io penso che questo territorio debba scrollarsi di dosso anche quello di essere la pattumiera di tutta questa parte della Sicilia e soprattutto debba scrollarsi di dosso la possibilità di continuare a fare, guadagnare qualche cricca. Paola per concludere che significa intestare uno stadio ad un'editta, gli allendini è avvenuto. Io l'ho scritto nel mio libro, per me è un segnale bruttissimo, con questo non voglio dire che ci sia una responsabilità penale, e ci mancherebbe altro, non sta al giornalista. Sicuramente però è un segnale molto brutto, perché io avrei intitolato lo stadio a una vittima di mafia come ci sono in questo territorio per poter anche rispecchiare quella che è una sensibilità diffusa e che stasera abbiamo dimostrato con questa importantissima presenza. Ecco, secondo me è un brutto segnale e voglio sperare, voglio essere assolutamente convinto che sia stata una leggerezza che prima o poi possa essere sanata. Grazie a tutti.